A voi umani. Centro spirituale Frattocchie, anno 2001, a cura di VB, guida. Ciò che fa muovere tutte le creature è l'energia. Energia che viene inviata dall'alto e che man mano che scende diventa più pesante. In realtà non è l'energia diventare pesante, ma è la capacità di ricevere tale energia ad essere lenta e poco sviluppata sulla Terra. Ogni creatura, con la sua esistenza, incentiva la vibrazione energetica. Se un essere di energia buona e pura va a vivere per un periodo sulla Terra, porterà con sé la capacità di gioire e di illuminare le vite altrui, pur non essendo in grado di ricordare il mondo dell'energia pura da cui proviene. È quello che avviene a voi umani. Hai deciso di essere presente anche sulla Terra e sei tornato con le stesse tue qualità. È l'energia ciò che devi assottigliare. È quell'energia che ti compone che deve evolvere, salire e agganciarsi al filo dell'energia sempre più pura. Dire anima o dire energia significa dire vita. È la vita ciò che esiste. Tutto è vita, tutto è energia. Esiste anche l'energia pesante, quella che muove lentamente, quella a cui molti umani si agganciano, ma non riescono poi a superare. Vedere solo una cosa, dare importanza solo a un elemento o ad un settore della propria vita è per voi umani motivo di mancanza di evoluzione. Sia aperto e segui con attenzione ciò che fai perché la tua attenzione, la tua volontà, la tua concentrazione aiuta te e il genere umano tutto a risolvere delle difficoltà. iscriviti al nostro canale Grazie.